Cena, grosso borgo di interesse agricolo e altri porti del Gargano, si possono raggiungere le isole Tremiti, chiamate anche Diomedee, perché qui, secondo la leggenda, vi morì e fu sepolto l'eroe greco Diomede, che di ritorno dalla guerra di Troia vi era prodato ed anche per il fatto che i suoi compagni furono tramutati da Venere in uccelli marini, chiamati appunto le Diomedee. Le vicende storiche più interessanti di queste isole sono però collegate all'abbazia di San Nicola, che imponente si erge sull'isola omonima. Oggi l'arcipelago delle Tremiti è certamente meta di un diffuso turismo per la sua incomparabile bellezza, per la natura ancora selvaggia, per la limpidezza delle acque e per la splendida vista che offre delle sue coste. San Severo è un grande popoloso centro situato a nord di Foggia, lungo la strada dove si estendono i campi di grano del tavoliere, i vigneti e gli uliveti, cosparsi di masserie. I suoi stabilimenti vinicoli sono certamente tra i più grandi ed importanti della Puglia. Oltre alla degustazione dei suoi più famosi vini, i turisti possono ammirare le bellissime opere d'arte che fanno parte della storia di San Severo. Le chiese, con i loro tesori architettonici, l'elegante palazzo di città, il teatro, i bei giardini pubblici, il vecchio ospedale Teresa Masselli Mascia ed il più nuovo e modernissimo ospedale. San Severo è il comune più importante dell'azienda USL Foggia 1, in quanto sede della direzione generale. Grazie.